Ciao, sono Pauline Phoenix. Arriveremo nel mio personalissimo parco a tema. Andiamo, Paxley. Se ottengo il lavoro, avremo un posto tutto per noi. Posizioni al Phoenix Park all'attrazione Dead End. Si prega di arrivare al tramonto. Il notte una volta si trasferì a... Benvenuti mortali. Voi due dovete essere i candidati. Non pensavo ci sarebbe stata una scelta. Ritiro la mia candidatura e il lavoro è tutto tuo. Paxley, ti prego. Tu non osare dare ordini al grande Temeluco, mai! L'anima di Temeluco ora è in quel cane per sempre. Sono tornato. Ah, già, adesso parlo. Non va bene per niente. Vuoi sapere cosa mi dice l'odore del tuo di dietro? Ah, e ho anche dei poteri magici. Fantastico! Accomodatemi! Smettila! Questo è il primo posto in cui mi sono sentito libero di essere veramente me stesso. Ma è così che mi sento io? Mi hai abbandonato? No, no! Ho abbandonato tutto il resto. Avanti, ragazzi! Ehi, picco... Lito? No! 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 È esattamente come sembra. Ehi che fica. Alla prossima! Alla prossima! Grazie a tutti.